e ciao a tutti amici sono franca versa e questa è la serie di video per creare background in maniera veloce qualche idea quindi andiamo nel media pool tasto destro new fusion composition e poi portiamo la fusion composition in timeline andiamo in fusion e qui adesso andiamo a creare velocemente uno sfondo con dei colori quindi mettiamo un background anche questo può avere un colore oppure potete lasciarlo nero e andiamo nella stessa maniera usando dei nodi background proviamo a metterne tre per esempio a creare delle forme colorate quindi ad esempio facciamo la prima la facciamo rossa la seconda la facciamo sull'arancione state tutto in tinta o cambiate i colori come desiderate e la terza la facciamo gialla ovviamente non si vedono dobbiamo vederli una per una premiamo uno su primo nodo andiamo a creare la forma potete utilizzare qualsiasi maschera ad esempio adesso sulla prima proviamo a fare un cerchio e ovviamente la dimensioniamo e la posizioniamo in qualsiasi punto colleghiamo giù alla linea base così avremo in uscita il nostro cerchio facciamo la stessa cosa proviamo sulla seconda a fare un rettangolo lo colleghiamo lo ridimensioniamo e lo posizioniamo dove desideriamo così anche con la terza facciamo un altro cerchio lo colleghiamo e poi andiamo a ridimensionarlo e posizionarlo ecco qua potete anche fare delle alisi non c'è nessun problema come facciamo adesso a ottenere il nostro sfondo colorato clicchiamo sul merge 3 shift barra spaziatrice e cerchiamo directional blur lo inseriamo adesso mettiamo in uscita il media out mi raccomando sul sul viewer 2 quindi premiamo 2 sul directional blur scegliamo il tipo allora qua è la forza se noi andiamo a applicarla vedete che abbiamo una direzione e un angolo ovviamente questa forza qui possiamo andarlo aumentare e vedete che abbiamo queste striature ecco qua possiamo muovere l'angolo delle striature e già così vedete abbiamo delle sfumature però invece di usare il lineare andremo usare ad esempio il radiale e guardate ecco qua si creano queste nostre sfumature qui abbiamo il centro che può essere mosso con center x e y e quindi possiamo spostare questo centro dove desideriamo andiamo a a vedere l'ultimo merge qui in uscita premiamo 1 così sappiamo dove sono le nostre forme possiamo sul directional aumentare il glow per rendere tutto più luminoso e spostando queste forme qui come vedete spostiamo la nostra sfumatura colore dove desideriamo quindi possiamo anche ridimensionarla a video per vedere il risultato col col nostro blur ovviamente nessuno ci vieta di cambiare i colori per fare delle prove sulle tonalità dei colori e vedere quali di questi colori stiano meglio assieme ovviamente possiamo aprire e scegliere il colore da direttamente dalla gamma qua ecco guardate in uscita cosa abbiamo inoltre a questo punto è l'angolo di rotazione per creare queste sfumature nessuno ci vieta di usare più direction blur sommati assieme quindi possiamo unire un altro direction blur e sommare con un altro tipo di sfumatura ad esempio zoom ecco vedete otteniamo un insieme delle delle due sfumature questa più quella zoomata e vedete in un attimo come possiamo andare a creare questi sfondi anche sul secondo possiamo usare il glow ecco vedete già otteniamo cose più più luminose come bagliori di luce e ovviamente tutti questi parametri dai colori al alla direzione forza direttamente del direction blur sono tutti animabili quindi questi sfondi possono essere usati come background fissi ma anche come animati basterà andare a registrare le nostre modifiche sia sui colori la dimensione delle forme delle maschere e come detto il direction blur ovviamente molto interessante se andiamo a inserire dopo il background magari un transform con il quale fare ruotare mentre abbiamo l'animazione la nostra forma e vedete ecco qua in uscita come allora facciamo ruotare quel colore per creare proprio queste sfumature e poi a questi sfondi ovviamente potremmo andare a aggiungere qualsiasi nostro titolo per avere così un risultato in pochissimo tempo incredibile se io vado a inserire subito dopo qui un duplicate devo ricordarmi che sia 2d potrò andare a creare eccolo qua vedete una ripetizione ad esempio sulla forma eccolo qua aggiungendo un mosaic blur sarà possibile scegliere in esterni una squadrettatura del nostro fondo e non solo potremo aggiungere una forma del pixel ad esempio esagonale ricordate un'altra cosa che la stessa tecnica può essere usata per generare un fondo dove andiamo a inserire sempre delle forme una volta creata la nostra sfumatura come prima attraverso un merge con impostazione in questa sfumatura finirà dentro il nostro carattere questi background anche per inserirli in un testo bene io vi ringrazio di avermi seguito iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella ciao alla prossima